Riprendiamo quindi questo esercizio in cui abbiamo descritto lo scenario principale del successo e dobbiamo descrivere invece le alternative, le eccezioni, le estensioni rispetto a questo scenario. Come dobbiamo pensare? Questa figura ci aiuta a capire come pensare le estensioni. Noi abbiamo l'utente che ha un obiettivo, un attore primario che ha un certo obiettivo. Poi dovremmo sondare in modi diversi. La prima colonna qua a sinistra, cioè questi passi 1, 2, 3, 4, sono i vari passi di svolgimento dell'attività all'interno del caso d'uso. La S indica che un determinato passo avviene in modo corretto a successo, un singolo passo, e la F vuol dire che c'è un fallimento, una failure del singolo passo. Allora, quello può capitare? Il scenario principale di successo è questo. Il primo passo avviene perfettamente, il secondo avviene perfettamente, il terzo avviene perfettamente, il quarto avviene perfettamente, e quindi il caso d'uso si esaurisce con successo. Oppure può capitare che il primo passo avvenga correttamente, il secondo anche, ma al terzo ci sia un problema. Quindi vuol dire che a questo punto lo svolgimento del caso d'uso cambia, ma magari questo problema che si è verificato al caso 3 viene risolto da un passo 4, che non sarà più lo stesso passo 4 di prima, sarà un quarto passo di un percorso leggermente diverso. E quindi, e qui la stessa cosa può succedere avendo il primo passo che avviene correttamente, il secondo no, eccetera, eccetera, vado avanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una serie di malfunzionamenti, errori, errori di emissione, errori di dati, errori di convaliazione, controllo, insomma, di cose che possono succedere, che sono recuperabili, errori recuperabili. Cioè il fatto che lo scenario non vada nel modo migliore, nel modo perfetto, non impedisce di arrivare a successo. Ci si arriva lo stesso, ma con una strada un pochino più tortuosa, perché bisogna andare a recuperare delle condizioni anomali. Oppure ci possono essere dei percorsi in cui invece il fallimento non è recuperabile. E allora, vuol dire che il caso d'uso si concluderà con un fallimento. Cioè non sempre è possibile arrivare a successo, nemmeno a rastrare magari tutti o meno tortuosi. Quindi, quando noi consideriamo un qualunque passaggio, passo 2, o passo 3, del caso d'uso, mi chiedo, questa sarebbe la cosa normale, ideale, che deve succedere? Ma altrimenti, che cosa potrebbe succedere? Il nostro osservatore intermedio, quali altri tipi di risposte potrebbe vedere, differenti da quella che avviene nel perottimare? Le vado ad elencare. E per ciascuna tipo di risposta diversa, mi chiedo come deve reagire il sistema, con l'obiettivo, possibilmente, di riportare il sistema nel ramo di successo. Di recuperare l'errore, l'anomalizzo, l'anomalia, la differenza di comportamento rispetto al scenario principale. Se ci riesco. E se non ci riesco, vorrà dire che porterò il sistema al fallimento di perdure. Cioè, l'utente non raggiungerà proprio questo obiettivo. E' un paziente. Quindi, ragiono passo per passo. E quindi, la domanda che mi faccio, nella parte di estensioni, è, al passo 1, la famiglia seleziona la funzione di visualizzare vaccini. Cosa può andare a scorto? Cosa può avvenire molto diverso? Ma qui niente, perché se in realtà, siccome selezionasse un'altra funzione, è un terreno in un caso diverso e non in questo. Quindi, il trigger, il fatto, è quello che mi fa entrare. Ma invece nel caso 2, quindi il passo 1, direi che non ci sono alternativi, è quello del passo di ingresso. Il sistema, cioè l'utente, seleziona una voce. Può sempre farlo. A meno che quella voce non ci sia. Sì, ma c'è, perché le precondizioni, sottintese, ci dicono che quella funzione è attivabile. Ma l'utente magari non ha la password giusta. No, ce l'ha, perché le precondizioni sottintese ci dicono che l'utente sia stato verificato. Quindi, noi con le precondizioni abbiamo già garantito di fatto che il primo passo possa sempre avvenire correttamente. E poi, da qui in poi, però, speriamo che vada bene. Due, il sistema mostra l'elettro dei fili e dei strati. C'è qualcosa per cui questa semplice azione di mostrare l'elettro dei fili non possa essere portata a termine? Poi ragioniamo sui errori, guasti, manca la rete, eccetera, eccetera. Vabbè. Rimaniamo sul piano funzionale. Ci sono delle condizioni, al di là dei guasti fisici, ma condizioni logiche, funzionali, che potrebbero impedire al sistema per cui il padre non sia in grado di mostrare l'elettro dei fili. Il tempo è scaduto quando non ci sono figli. La famiglia si è registrata correttamente, noi questo lo sappiamo. Non siamo sicuri che abbia un numero di figli maggiore o uguale a uno registrato nel sistema. Potrebbe non esserci nessun figlio perché il bambino si è registrata prima che nascesse oppure il bambino è nato, magari ha già tanni, non lo so, ma per qualche motivo non ha fiscato i dati di una grafica e vogliono inserire la mano. E la famiglia va prima nella funzione controllo vaccini che non nella funzione inserimento della grafica perché in realtà sono indipendenti, perché lo può fare, perché non è in piedi di fare. Perché vanno inserimenti in processi diversi perché la famiglia ovviamente può controllo vaccino e quindi viceversa che qualunque altro. Quindi può darsi che quando la famiglia arriva lì non ci siano figli registrati nel sistema. Allora, mostro un elenco dei figli e non si può fare se non ci sono figli. Allora ho l'anomalia, diciamo l'estensione che chiamiamo 2A, in cui non ci sono figli registrati per quella famiglia. Il diagramma delle classi è una relazione di uno a molti tra famiglia e figlio. Il diagramma delle classi è una relazione di uno a molti. Allora, la domanda è sensata. Lui dice, ma nel diagramma delle classi mi ricordo che avevamo messo una relazione apposta di cardinetta minima, quindi la relazione tra famiglia e figlio era di uno a molti. e quindi, dice lui, dal modello concettuale questa situazione non si dovrebbe mai verificare. È vero. È corretto. Allora, se io mi figlio di questo, metterei nella precondizione che la famiglia abbia meno un figlio registrato. Lo vado a esplicitare qua. E allora a questo punto, a questo caso, non si può più verificare perché so già a monte, quello che stai dicendo tu, e so già a monte del diagramma concettuale che questo non si può verificare. Allora, come precondizione lo indico e se lo indico come precondizione so che è vero. A livello logico, qui questo è possibile se qualcuno non mi dice che è già stato garantito a monte ad esempio dal modello concettuale. Quelle condizioni lì non sono tra quelle che teniamo sottintese. Infatti, tra le precondizioni sottintese ci sono quelle dell'attivity diagramma non quelle del class diagramma perché non è perché ci applichino sempre. Poi, poi pensiamo cosa fare. Questa è un'alternativa la condizione per cui si evidica questa alternativa e a questo punto dovremmo dire che cosa fare. Due punti. Che fa il sistema in questo caso? Questa è la motivazione, la condizione, qualcosa di invisibile all'utente. non fa parte dello scambio di informazioni. Ciò che fa parte dello scambio di informazioni è che il sistema farà qualcosa. A chi sta la palla? Al passo 2 la palla sta al sistema. Qui c'è il sistema che deve fare una cosa deve fare una cosa diversa da quella del passo 2 normale. Il passo 2A mostrerà un errore e termina con fallimento il caso 2. Non si può raccontrare questo caso 2 perché non ci sono qui di selezionare. quindi il sistema mostra un messaggio d'errore e termina con fallimento. Non è recuperabile questo caso. Come dice questo compagno sarebbe stato più curvo a non rendere neppure la funzione attivabile nel senso che fallite ma a volte si può fare o a volte si può fare dipende come organizzare. Dopodiché questa è un'alternativa sfortunata. A me viene in mente un'altra alternativa fortunata. Cioè la famiglia esiste un solo figlio. Allora se esiste un solo figlio ti mostro un elenco con una voce e ti dico seleziona quella voce lì. Fa un po' ridere. Se esiste un solo figlio io voglio fare un sistema bene lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio potrei farti saltare i passi due o tre. Cioè tu quando entri come famiglia se hai un figlio ti faccio solito vedere l'elenco dei vaccini di quel figlio lì perché tanto quello hai. Se ne hai più due uno prima ti chiedo di scegliere il figlio e poi ti faccio l'elenco. quindi nel caso di questa estensione non è una estensione è una se vogliamo un'anomalia è un caso particolare non necessariamente un verbo è un caso particolare che voglio gestire con un percorso diverso. e quindi vai al passo 4 quindi sistema anziché fare il passo 2 in alternativa al passo 2b salta direttamente al passo 4 nel quale si tocca sempre ancora il sistema a giocare e quindi è il sistema che risponde e mostra direttamente le collezionazioni del figlio selezionato o sotto il terro quello unico che c'è e poi termina con successo quindi questo è un caso di sezione che termina recuperando il successo del carruccio qualcuno avrebbe anche potuto fare ovviamente inverso perché mostrare l'elenco è il scenario principale e avere un suo figlio è un'eccezione cioè potremmo aver pensato lo scenario principale di successo dicendo la famiglia seleziona la funzione poi chiede il suo figlio e il sistema mostra l'elenco e poi invece come eccezione se esiste più di un figlio in realtà fa mostra l'elenco e fa selezionare che sarebbe come scenario principale ancora più breve sarebbe solamente il punto 1 o il punto 4 allora questo è il motivo per cui quando ho cercato di definire che cos'è lo scenario principale di successo ho detto che quello normale quello tipico non ho detto quello più breve perché in realtà il fatto di averlo più breve accorciato è un caso particolare non è il caso normale quindi è un certo di descrivere anche se fatto di un passo di più il caso normale il caso medio il caso non so quali altri oggetti più dare o il caso normale tipico generale generale e poi ho una serie di eccezioni le quali possono o complicare o semplificare per carità ma sono casi particolari che si verificano solamente se esiste una condizione particolare quindi quale sia la condizione normale quale sia la condizione particolare ovvio che è una opportunità soggettiva alla fine il sistema può fare sia l'una che l'altra cosa una la chiamo principale l'altra la chiamo frizione però normalmente nel principale cerco di mettermi nel caso generale perché è un po' è più facile andare a identificare quali sono i casi particolari rispetto a quello generale se io invece mi metto in un caso generale puoi trovare tutte le generalizzazioni e le eccezioni della generalizzazione che faccio mi incadrino facilmente qui sotto quindi come diciamo di questo spiegando per commentare perché non è detto che lo scenario principale sia il più breve perché magari il percorso più breve è un caso particolare nel caso generale ok e direi che altre alternative al passo 2 non ne vedo passo 3 la famiglia seleziona uno dei figli mostrati allora arriviamo dopo il passo 2 quindi nel passo 2 il sistema mi ha mostrato un altro elenco di istituzione ho davanti a me un elenco di istituzione ne devo selezionare uno quali altre cose può fare l'utente rispetto a selezionare uno di quelle voci nessuna cosa può farci non può fare altro l'unica cosa che potrebbe fare è non agire questo lo gestiamo tra un attimo a parte l'inazione se fa qualcosa l'unica cosa che quella pagina può fare ha questi 4 coctoni o 2 o 3 quanti sono i figli erano 18 prima e selezionare uno in quella pagina non può fare un disegnino scrivere il nome il sistema gli ha predisposto a quell'input lì e lui solo quell'input può dare oppure abbandona chiude se ne va o non risponde allora è diverso ma se fa qualcosa deve fare un di queste cose quindi non ci sono alternative non ci sono azioni diverse che la famiglia possa fare ricordiamo che al passo 3 l'azione rispetto alla famiglia e quindi mi devo chiedere cosa la famiglia può fare di diverso rispetto a schiacciare un bottone passo 4 quindi qua non vedo non trovo alternative al passo 3 al passo 3 sotto sì invece ne trovo ma lo vediamo dopo passo 4 il sistema mostra l'elenco delle vaccinazioni del figlio quindi stiamo pensando a cosa succede dopo il passo 3 nel passo 3 ha selezionato uno dei figli e quindi il sistema mostra un elenco l'alternativa è che in questo elenco non ci siano vaccini registrati quindi non mostra l'elenco ma indica che non ci sono vaccini registrati non è neanche un errore quello è un'informazione però nel momento in cui l'elenco è vuoto non esiste non posso dire che ti ho mostrato l'elenco ti mostrerò un messaggio che ti dice no è brutto avere una cosa poi ti sono due vaccini due punti e pagina bianca subito pensi che ci sia un errore invece devi scrivere non ci sono vaccini registrati nel sistema che è un'informazione diversa è una risposta diversa quindi la risposta diversa è 4b nel caso in cui non ci siano vaccini registrati registrati allora il sistema mostra messaggio informativo e termina con successo vediamo se è vero che termina con successo io cosa avevo scritto nell'intenzione conoscere lo stato di vaccinazione se avessi scritto vedere l'elenco non sarebbe stato successo perché vuol dire che l'elenco qua non te lo sto facendo vedere ma per fortuna siamo stati bravi gli abbiamo scritto conoscere lo stato di vaccinazione e il fatto che non ci siano vaccini è un possibile stato di vaccinazione e quindi posso dire che è successo quindi devi essere sempre potente andare a confrontare l'obiettivo che gli siamo dati con ciò che succede nel sistema quando dichiariamo successo e verificare che sia quello e che avessimo scritto contro l'elenco avremmo voglia di corretterlo e generalizzarlo ma può succedere perché ti accorgi poi solo dopo che esisteva qualche altro particolare e tu come avevi scritto non andava bene ci sta in questo caso siamo stati fortunati perché per ogni possibile percorso alternativo l'azione che doveva fare il sistema si conclude in un passo solo in un punto solo dietro di zero passi perché semplicemente passa a un altro punto che non deve fare nulla di particolare in più ma la risposta è semplicemente a un punto diverso a volte invece il recuperare questa anomalia richiede magari un paio di interazioni per l'utente del sistema ma in questo caso cosa si fa? perché questo è un punto 2A mostra un massaggio di errore se invece oltre a mostrare un massaggio di errore l'avessi dovuto chiedere dei dati l'utente l'avessi dovuto inserire eccetera come lo descrivo questo? lo descrivo sottomumerando queste parti cioè avrei fatto non so 2A ci sono figli e ci sono stati per la famiglia quindi 2A.1 2A.2 2A.3 2A.4 descrivo i vari passaggi sempre a ping pong necessari per gestire l'anomalia che è nata che è sorta in 2A poi se sono particolarmente sfigato nel punto 2A.2 c'è ancora a sua volta un'eccezione che sarà un 2A.2A e così via posso andare avanti fino a quando non perde il senso cerchiamo di mantenere possibilmente questi casi sono ordinati e quindi abbiamo un'umerazione gerarchica nel caso in cui il recupero di un comportamento deviante deviato rispetto alla base richieda più di un passaggio solo ecco su questo proviamo a vedere come si sarebbe invece gestito il caso in cui avessimo scelto quest'altra formulazione come caso questo fatto così è finito che abbiamo completato la descrizione narrativa di dettagli di questo termine cioè ci sono tutte le informazioni a monte c'è lo scenario principale e ci sono tutte le estensioni possibili ah no non posso passare all'altro ci sono ancora due tipologie di estensioni quelle dovute non alle azioni diverse o errate dal sistema ma alla mancanza di azioni da parte dell'utente ma alla mancanza di azioni da parte dell'utente come descrivo come si deve comportare il sistema sull'utente non agisce allora se non scrivo niente praticamente sto supponendo che il sistema rimanga in attesa all'infinito che l'utente agisca quindi se il sistema mostra l'enco i figli registrati e la famiglia non seleziona nessuno dei figli mostrati in realtà il sistema rimane sempre in attesa che la famiglia selezioni ecco i sistemi reali non succedono mai così nel senso che c'è sempre un tempo massimo entro il quale deve inserire se no poi si chiude la sessione e deve ricominciare da capo allora in questo caso possiamo diciamo così mettere a fattore comune tutti i casi in cui la famiglia non inserisca dei dati non agisce non interrisce col sistema e chiudiamo il cartuso quindi questo qua diventa un caso d'uso sia nel punto 1 che nel punto 3 io di solito ci metto un asterisco per dire una lettera diversa da quella di prima non so se è bc o d ma nel caso 1 nel caso 3 sarebbe un 1a e un 3a in questo caso se l'utente la famiglia non interagisce entro 10 minuti 20 minuti allora il sistema chiude la sessione e termina con fallimento c'è un'altra in tutti i passi nel passo 1 nel passo 3 ci possono le passi nelle seczioni anche in cui tocca all'utente agire e l'utente non agisce in tutti quei casi lì se ho un tempo massimo dentro cui l'utente deve interagire altrimenti chiude la sessione e abbandonano il casduto no non è che il cancello di dati semplicemente entra il sistema che deve rientrare da un po' il caso di guasti al sistema invece è molto più complicato e andrebbe però affrontato già con la conoscenza dell'architettura del sistema qua deve dire semplice se io cercassi di modellare il fatto che quando si interrompe la conoscenza di internet il sistema mostra un messaggio del tipo di prologi dati però se mi manca la conoscenza di un'ultima come faccio mandare quel messaggio cioè dipende dal tipo di applicazione se è un'applicazione mobile mobile può avere questa logica del messaggio direttamente sull'applicazione quando si accorge che non c'è internet ti mandi messaggio se invece un'applicazione web un sito web se il sito non mi manda messaggio il browser non lo visualizza quindi in determinato comportamento dipende poi dal supporto tecnologico in cui in cui l'applicazione viene realizzata anche in cui l'applicazione web in cui si ha una logica data client e la logica data client potrebbe gestire questa cosa qui però non riesco a descriverlo in modo neoso rispetto all'implementazione quando capitano dei problemi anche perché appunto magari è un'applicazione che so non è questa ma è un'applicazione un piosco collegato al sistema un totem e non c'è interno di mezzo quindi con i malfunzionamenti proprio non si possono criticare quindi qui dentro quando uno dovrà andare a implementare sul serio il sistema su questa lista di tensioni si allungherà si dovrà arricchire tutti i possibili malfunzionamenti dovuti a tutte le possibili deviazioni nel comportamento del scenario dovuti ai malfunzionamenti hardware tipicamente hardware di rete e a volte software però tende poi sempre a non farlo a livello di singolo carri d'uso perché tendono ad essere dei comportamenti comuni a tutti i carri d'uso cioè vogliamo dire che il sistema quando manca la connessione qualunque cosa stai facendo si comporta in un certo modo uniforme non devo mettermi caso per caso a riportarmi a gestire in modo diverso differenziato come gestire di un problema hardware un problema di connessione quindi queste anomalie ci sono sempre ma vanno portate a livello di sistema non necessariamente a livello funzionale di carri d'uso tranne magari qualche caso specifico in cui qualche caso specifico perché il banco sente che la macchinetta per spegnere i soldi sia inceppata allora lui deve fare qualcosa deve fare qualcosa di diverso a seconda che i soldi siano già usciti oppure no allora questo lo devo specificare in quel caso poi dopo il sistema avrà in errore e non fa più niente ma quella parte lì quella azione lì come reagisco nel momento in cui mi accorgo di quell'errore se me l'accordo in qualunque momento basta che mandi blocco il sistema se mi accorgo in quel momento specifico devo fare l'accordo allora queste condizioni di errore fisico le descrivo solamente quando c'è qualcosa di specifico da fare altrimenti so che qualcun altro deve gestirle le specifiche non funzionali di solito dovrò descrivere come recupero gli errori o i guasti di tipo arduo quindi questa è una piccola parte delle estensioni che sono dovute ai comportamenti che ci si può ragionevolmente attendere in assenza di guasti l'altro non ci imbarchiamo in quel dettaglio ok questa era l'interpretazione normale ragionevole l'altra possibile implementazione la facciamo per esercizio sarebbe stata di questo tipo quindi chiamiamola alternativa che non ci piace ma facciamo lo stesso facciamo lo stesso per capire come si gestisce e come invece affrontarla in altri casi in cui invece l'ha fatto allora questo è uno possibile scenario principale diverso allora chiediamoci come gestire le estensioni no non qui so qua allora la differenza qual è? che mentre prima c'era un lento dei figli del suo generale 1 qui c'è un campo in cui si arrivano i nuovi figli allora nel passo 2 dove prima avevamo l'eccezione cosa succede se non hanno figli se non hanno figli non te li posso mostrare e quindi se avresti bloccato non riuscire ad andare avanti quindi non devo far più arrivare qua invece non c'è problema il sistema può sempre mostrare un campo di testo vuoto dicendo utente quindi non ho quell'eccezione non c'è motivo di trattare in caso particolare il caso di un figlio solo e quindi non ci sono eccezioni al punto 2 al punto 3 la famiglia inserisce il nome quindi abbiamo un campo di testo in cui la famiglia inserisce qualcosa possono darsi tre casi in caso 1 la famiglia non inserisce nulla ebbene ricadiamo nel non interdisce chiude la sessione eccetera e poi però mentalmente noi abbiamo anche due possibilità inserite un nome giusto o inserite un nome tagliato peccato che nel passo 3 che è quello in cui la famiglia inserisce il dato non posso distinguerli per me una delle due pettegole ha detto all'altra una frase che poi si è giusta o sbagliata non lo sappiamo finché non vediamo la relazione dell'altra che dice oh sì 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 oppure dice ma sei pazzo e quindi inserire un dato è errato è sempre inserire un dato poi sarà la reazione del sistema che dopo aver verificato il dato l'azione che non vediamo mi farà vedere all'utente che il dato è concettato oppure l'altro quindi l'errore nell'inserimento del dato non lo vedo nel momento in cui lo inserisco ma lo vedo nel momento in cui il sistema risponde a ciò che ho inserito cioè al passo successivo al passo 4 è il sistema che dice che è stato sbagliato quando il dato è inserito non lo so chi osserva la comunicazione e non conosce i dati memorizzati nel sistema non può sapere se sbagliato quindi l'estensione qua è la 4A e dai in cui il nome inserito non corrisponde a nessun figlio e allora cosa devo fare tocca al sistema dire qui c'è un'alternativa al punto 4 la risposta del sistema non può essere mostra dentro le vaccinazioni ma sarà torno al punto 2 cioè permettono l'utente dico guarda è sbagliato reinserito in realtà non posso tornare proprio al punto 2 perché il punto 2 direbbe inserisci il nome allora immagina il trucente campo inserisci il nome inserisci il nome sbagliato invia e ritorna su questa pagina così che inserisci il nome no deve dare una pagina leggermente diversa in cui c'è scritto il nome inserito è errato per favore corregilo quindi non va esattamente al punto 2 ma va una sua variante del punto 2 e quindi abbiamo un passaggio in cui il punto 4A1 quindi cosa faccio in questo caso se il nome non esiste nessun figlio il sistema mostra un messaggio di errore e predispone un campo di testo in cui correggere il nome inserito cioè vuol dire che questo campo di testo non parte vuoto parte già col nome che ho inserito prima mi permette di correggerlo non c'è nulla di peggio di dire hai sbagliato inserirlo e non vedere come lo inserite quindi non so lo devo inserire da caso ma non so perché ho sbagliato se invece mi si è sbagliato e me lo fa vedere io ho il tipico della cosa e a questo punto ho mostrato questo e vado al punto 3 quindi il punto 4A2 vai al punto 3 vai al punto 3 in cui la famiglia inserirà di nuovo il no quindi può capitare 1,2,3,4 sono a posto può capitare 1,2,3 4A1 4A1 e poi nuovo 3 poi 4 va bene ci ho sbagliato una volta oppure potrei fare 1,2,3 4A1 ritorno al punto 3 risbaglio di nuovo ritorno al punto 3 per 7 volte e poi finalmente mettiamo in giusto per far vedere a meno che non decidiamo che il numero di errori lo limitiamo al massimo 3,4,5 allora a quel punto se decidessimo che il numero massimo di errori è limitato non può sbagliare 10 volte poi inserire quello giusto perché sospetto che stia provando magari non è lui è uno che sta cercando di entrare nel sistema cercando di inventare i nomi quindi lo voglio bloccare allora avrò un'altra alternativa che diventa un 4B in cui il nome inserito non corrisponde a nessun figlio ed ho già sbagliato e l'errore è già stato fatto 5 volte allora in questo caso caro mio ti sbatto fuori in questo caso il sistema mostra errore e termina con fallimento quindi se tutto va bene il sistema mostra l'elenco se compio un errore mi segnala l'errore e mi permette di correggerlo e di reinserirlo e quindi di tornare al punto 3 ma se perseguo in questo errore per più di 5 volte invece mi mostra un errore definitivo e non mi lascia più andare avanti non sarebbe male evitare di costruire dei casi duri potenzialmente infiniti non è una regola però è un dubbio che non si ci vuole ciò non toglie che poi ci sia ancora il caso che a questo punto si chiamerà 4C in cui non ci sono vaccini inseriti ma questo se l'avamo anche già di lato cioè i 4A e i 4B erano errori di immissione al punto 3 del nome di un figlio che per tanto non esiste tra quelli registrati se invece il figlio esiste può benissimo darsi che non ci siano vaccini registrati allora vabbè qui ci comportiamo come ce l'avamo comportati prima il sistema mostra un messaggio informativo e poi termina con successo qui l'allineamento verticale mi è andato a pallino in tutte queste estensioni alcuni mi servono per gestire gli errori di immissione altri mi servono per gestire diciamo le anomalie dei dati riservati del sistema e poi c'è la clausola c'è la clausola di in azione quando è che la famiglia non interagisce nel punto 1 nel punto 3 e poi basta perché non ci sono nelle altre estensioni dei casi in capo alla famiglia quindi cerchiamo di non ho capito se la famiglia viene portata attivo 4 a 1 e non non riesce a modificare o comunque non interagisce con il senero quindi poi si però ho capito ti dici cosa capita se la famiglia non ha un sistema dopo aver mostrato il messaggio di errore ma questo 4 a 1 è quando il sistema ti mostra il messaggio di errore e ti crea la clausola di testo poi vado a 3 e in 3 inserisco il nome quindi è sempre il passo 3 sia quando ci arrivo per la prima volta che quando ci arrivo in seguito di un errore sono sempre passato al passo 3 al passo 3 inserisco il nome oppure occorrevo il nome che mi arrivava dall'inserimento precedente e quindi nel passo 3 potrei non rispondere quindi il discorso della inazione ce l'abbiamo solamente dobbiamo cercare semplicemente i passi in cui il soggetto è l'attore e non il sistema poi possono essere i casi in cui il sistema non risponde anche magari hai fatto una ricerca complicata e lui non ce la fa in 14 secondi o minuti scondi perché il mente allora non riesco a abbandonare in questo sistema non sembra che nessuno di questi passi comporti una particolare computazione pesante da parte del sistema quindi non mi aspetto di dover gestire il caso in cui il sistema sia lento questo aspetta che ho indentato male così e tutto questo è un gioco di cosa succede su cosa può andare a scoprire la difficoltà è già alimentare quando va storto qualcosa spesso me ne accorgo me ne accorgo solo attraverso un'informazione diversa che circola tipicamente a passi dopo ok quindi in questo caso diciamo così un meccanismo di questo genere alla fine se lo dobbiamo trovare sempre quando avremo dei dati da inserire in cui vanno inseriti da zero dall'utente inserisco un dato che il sistema non sa già e quindi deve gestirmi tutta questa parte questo è il motivo che ne so se io dovessi prendere i dati neagrafici di una persona preferisco fargli scegliere che ne so il comune di nascita da un elenco adesso poi non facciamo magari una tendina con duemila voci no? però poi tu elenco un autocompletamento man mano che scrivi ti fa vedere i nomi e scegli da quelli perché tanto comunque io l'elenco ce lo devo avere perché sennò non so non posso accettare un nome di comune inventato quindi l'elenco devo averlo fare in modo che lui scriva il nome e poi controlli se è uguale a uno della vostra del elenco e apre immaginate San Giorgio con la S punto con il peresteso Sant'Agata con la posto con la A quante varie varianti ci sono io nel sistema ne avevo una allora l'utente deve scrivere esattamente il nome del comune che ho in sostegno quando è possibile cerco di evitare che l'utente debba inserire dei nomi che corrispondono a possibilità che già conosce e quando è che l'utente può inserire invece un campo di testo libero e quando è un campo di testo libero se il tuo nome come ti chiami tu lo sai tu e basta non è che il sistema può dire che non ti chiami Julio perché è un nome che non previnano ma è chiamato così anche se è un nome che non l'imprevisto dovrei accertare perché questo è il mio no allora il campo di testo è quando effettivamente il dato che inserisce l'utente diciamo che valga sempre poi per carità magari valga sempre al letto di una validazione di formato cioè non ci devono essere punteggiature punti scammativi farcine o emoti con vari non va bene deve essere fatto con certi formati se vuole un numero vuole un numero e non una letra però mentalmente cerchiamo sempre di capire se l'utente deve selezionare per un dato tra quelli di sistema oppure l'utente deve selezionare il dato che il sistema deve accettare per quello che è pur che rispetto al formato allora da un lato cerchiamo di aiutare l'utente a non sbagliare e il sistema non dovesse incasinare o recuperare l'errore perché questo non è quello sopra gli errori di immissione dell'utente non aveva in più questo è anche brutto come sistema mi sono accorto adesso mentre lo mentalmente ripassavo l'eccezione del caso precedente che se per caso il sistema non ha nessun figlio registrato e stiamo frustrati dimostrando questa persona che sta provando continuare a mettere i nomi e il sistema risponde sempre di no perché non potrà mai indovinare un nome che non c'è perché non ci sono figli pensa di inserirlo male quindi sarebbe bello che anche il sistema però abbiamo già detto prima che non ci piace questa soluzione però un motivo in più è che in un caso lecito cioè non ci sono figli registrati questo sistema non aiuta l'utente a capirlo ma il segnale ripetutamente errore dovrà gestire un caso in più non esistono figli però controllare il caso in cui non esistono figli e poi dopo chiederti qui vuol dire che lui li sa li va a vedere e poi non te li fa vedere sarebbe veramente spiro ci sono tre figli ma devi indovinare il nome ok continuando sul nostro caso d'uso che era questo abbiamo detto facciamo quello facile con un belenco e poi c'è corregge l'enco attenzione allora cosa vuol dire vuol dire che dobbiamo creare un'altra restrizione per cosa succede nella correzione dell'elenco della tensione quindi immaginiamo di averlo già scritto poi dobbiamo scrivere come modelliamo questa freccia extend l'estensione ah beh adesso abbiamo tutti solamente per farlo in un caso si chiamava extension con l'elenco di alternative cioè vuol dire che a un certo punto l'utente si chiama un passo di quelli che sono previsti dal caso d'uso che abbiamo descritto per estensione va direttamente per un altro altro allora noi dobbiamo semplicemente specificare nel caso d'uso esteso che è quello che abbiamo fatto qual è il punto di estensione cioè qual è l'azione passo dell'utente che ti porta a saltare nell'alto prodotto e qual è il passo dove è stato qua del scenario principale in cui l'utente a un certo punto cambia intenzione cioè non è più il suo obiettivo cambia da voglio conoscere lo stato di vaccinazione e voglio modificare l'entore da 5 e di fatto sarebbe il passo 5 perché lui può cambiare l'idea solamente dopo che ha visto l'entore quindi in questo caso stiamo creando un'estensione un'alternativa a un passo che normalmente non c'è va bene lo chiameremo l'alternativa 5a o a volte lo chiamano se guardate sulle slide suggeriscono di chiamarlo 5 più per dire aggiungiamo in alternativa aggiungiamo il passo 5 perché l'altro avrebbe alternativa di un 5 che era per l'altro ma è una questione puramente formale su cui non mi voglio appassionare per l'alternativa al passo 5 che essendo un'estensione può verificarsi o no dipende dalla volontà dell'utente a questo punto la famiglia diciamo quello che chiamiamo extension la famiglia passa a l'altro caso che si chiama correggere le incovaccinazioni cioè a questo punto oltre alle cose che può fare normalmente può attraversare la freccia di pensione e passare ad un altro caso d'uso che si chiama in questo caso correggere le incovaccinazioni eventualmente non abbiamo già scritto questo altro caso d'uso ma eventualmente indichiamo anche magari a quale passo arriva non è detto che cominci dal passo 1 magari può cominciare se anche dal passo 1 scegli il figlio comincia dal 3 adesso non sappiamo ancora come sono fatti quei passi quindi non lo possiamo trascrivere scriviamocelo solo per ricordarselo iniziando dal passo puntini puntini non lo so ancora quindi quella freccia estende in cui si diceva guarda che a un certo punto l'utente può decidere io qua ti dico quando e come posso permettere all'utente di decidere di passare ad un altro punto e soprattutto con le estensioni in coda di questo genere ha senso solamente se non inizio dall'inizio perché se no ho finito uno e cominciato dall'inizio perché la freccia di sezione ne ho fatto uno completo e ne ho fatto un altro radice invece no lo inizio già da a metà è stato avanzato ok va bene io la quest'altro l'implementazione di quest'altro caso d'uso la facciamo magari quando abbiamo un pochino più quindi già abbiamo così digerito un po' meglio questa presentazione perché è complicato perché ci sono vari come vediamo qua varie sottofunzioni che possono essere attivate io oggi prima di salutarvi vorrei però solo guardare insieme un altro diverso un altro tema d'esame che è tra i vari che sono alcuni che sono più simpatici altrimenti ma questo l'ho scelto perché ci sono due attori importanti mentre in tanti esercizi di archivio c'è un attore che fa quasi tutto e quindi sia in termini di diagramma dell'attività che in termini di diagramma di case d'uso sono molto c'è il tizio e il sistema che fanno cose invece qua effettivamente ci sono attori diversi quindi magari dopo lo vediamo lo vediamo insieme e poi nella prossima lo cominciamo ad affrontarlo partendo dall'inizio quindi prendiamo un po' di tempo visto che siamo con le lezioni avanti rispetto ai lavoratori dedichiamo un po' di tempo a fare esercizio e consolidare queste tematiche che vediamo ok allora questo qui parla di tuber cioè una sorta di servizio di car di taxi privati alternativo uber un ipotetico servizio simile semplificato ecco fate l'attenzione io ricordo non tanto su questo tema di studio di questo tema di esame ma su uno simile dove di nuovo abbiamo preparato uno scenario ispirato come poi sempre facciamo dai servizi reali ok cercate però poi di seguire la traccia del testo non cosa succede se siete davvero utenti di uber non è che diciamo ma uber in questo caso fa così e allora se il testo dice cosa ha devi fare cosa ok quindi cerchiamo di prendere spunto da cose più o meno esistenti per aiutarci la comprensione ma poi le specifiche del sistema sono diverse da quelle del sistema reale in alcuni punti allora questa società si offre come intermediario tra due categorie di utenti che sono inquilatori e i passeggeri quindi già mi sto vedendo il modello concettuale con gli utenti che sono di due tipi diversi poi mi spiega allora un guidatore è bla 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 un privato un passeggero invece è qui c'è un paragrafo che mi spiega come è fatto questo sistema informativo dal lato visto dai guidatori e un altro bravo che mi spiega come è fatto il sistema informativo visto dai passeggeri e io mi metterò insieme il tutto per avere una vista complessiva del sistema informativo il guidatore è un privato ha registrato il sistema con tutti i propri dati personali tutti vabbè proprietario di un'auto di cui ha fornito gli estremi cioè la targa assicurazione e le quali altre informazioni quindi so chi è so che auto ha c'è un guidatore ha donato un'applicazione sul proprio smartphone quindi questa è un'applicazione più strutturale mi dice che un pezzo del sistema marco del guidatore attraverso la quale l'applicazione può dichiarare in un istante la propria disponibilità di trasporto cioè vuol dire adesso sono in servizio adesso non sono in servizio in qualunque momento non necessariamente lo devi dare in anticipo cambia idea comunque quando il guidatore è disponibile il sole in quel caso e qui ci vedo l'altra condizione può ricevere delle richieste di trasporto da qualsiasi il passeggero il quale il passeggero richiede essere trasportato dalla sua posizione attuale posizione del passeggero che sarà diversa anche se auspicabilmente vicina rispetto alla posizione del guidatore cioè non è che mi chiede lontanissimo se magari c'è qualcun altro più vicino a cui chiederlo ma questo il guidatore non lo sa questo magari è il sistema che decide il guidatore ciò che sa è che quando lui è disponibile possono arrivare le richiamate e quindi portare il signore dalla posizione attuale a un indirizzo specificato il guidatore può accettare o riflettare la richiesta rapidamente aggiungo io se la richiesta viene accettata il guidatore si recca all'indirizzo del passaggio lo carica segnalando l'applicazione lo caricato lo trasporta lo lascia all'indirizzo di destinazione confermando il termine di trasporto mediante l'applicazione se ne accettiamo ciò che vuol dire cosa faccio dal punto di vista del guidatore dal lato opposto i passeggeri sono dei privati che hanno scaricato un'apposita applicazione un'altra diversa quindi già nel mio sistema ci ha fatto i tre pezzi l'applicazione del guidatore l'applicazione del cliente del passeggero e il server ed hanno fornito alcuni minimi dati personali i puntati di pagamento importante che paghi non importa chi sono ciascun passeggero poi in ogni momento richiede un trasporto indicando l'indirizzo di destinazione solo quello di destinazione perché con l'impartenza viene arrivato automaticamente nello smacco se l'applicazione avrà accesso il GPS il sistema cercherà il guidatore disponibile più vicino e segnalerà al passeggero che il servizio è stato preso in carico attendi sto cercando un guidatore per te nel caso in cui il primo guidatore non accette il servizio si passerà al successivo più vicino e così via quindi questo è il lavoro che fa il sistema mentre l'intente è in attesa al termine di ogni viaggio il passeggero deve esprimere un giudizio qui salta di fare un frasco questa cosa ma va bene al termine di ogni viaggio il passeggero deve esprimere un giudizio sul guidatore poiché i guidatori con i giudizi troppo bassi vengono periodicamente espulsi dal sistema queste frasi qui in realtà vado come dicevo salto un po' di parola frasica perché da una parte sto parlando della partenza poi dopo è scontato che il viaggio venga qui mi sembra che il passeggero durante il viaggio non debba fare nulla di particolare e quindi non è riscritto però invece all'interno di un viaggio deve esprimere un giudizio e poi c'è un'altra frase che licenza nulla con la fine del viaggio perché dice periodicamente alla fine del mese non lo so ci sarà il sistema che controlla i guidatori con i voti bassi e li manda altrove ok quindi attenzione che la diacenza del testo cioè infatti che continui questa frase non vuol dire che facciamo parte dello stesso processo no? quello che dico sempre non possiamo mai queste cose tradurre le frasi per frasi dobbiamo farsi un modello mentale di come funziona e poi riversare il nostro modello mentale sui vari modelli di WML altrimenti ci casiniamo se non si riuscirà poi dice ancora altre cose che il costo del tragitto viene calcolato automaticamente dall'applicazione quindi la quale compie una stima iniziale sulla base della distanza da percorrere quindi alla chiamata iniziale dice ma questo percorso qua costerà 8 euro e un valore finale sulla base dell'effettivo percorso più o più fatti e del tempo percorso quindi se non potranno fare il fatto che magari c'è più o meno traffico a parità di distanza percorsa se ho speso di tempo la corsa costerà di più l'importo l'importo viene sdebitato automaticamente dalla caratteristica del passeggero che è stata fornita in fase di registrazione quindi io la torno indietro e poi verrà accreditato questo importo a fine mese al guidatore quindi a fine mese il guidatore riceve in cassa una volta al mese al netto di una quota di servizio in affitto del servizio che è il guadagno di chi fornisce il sistema allora qua vediamo chiaramente che ci sono delle azioni fatte dal sistema verso il soldo al guidatore stabilisce chi deve essere espulso eccetera alcune agganciate alle azioni degli utenti che poi fanno ricerca al guidatore più vicino altre invece sono attività di servizio suo interno periodicamente fa questa cosa poi ci sono azioni su due altre componenti del sistema informativo che sono l'app del guidatore e l'app del passeggero che però ci devono interracciare in qualche modo tutto comincia con l'app del passeggero che fa una richiesta e questa viene recepita dal sistema il quale trova il guidatore più vicino e manda una richiesta che verrà a questo punto visualizzata sul lab di quel guidatore specifico e quando lo risponde l'informazione viene di nuovo veicolata all'utente quindi quel giochino dei segnali di processi paralleli qua di fatto poi il cuore di questa applicazione fa comunicare a loro varie parti per mandare avanti un processo che in realtà si svolge su pezzi diversi del sistema informativo e su anche parliamo di token diversi perché una singola richiesta di un passeggero può coinvolgere magari 3-4 guidatori diversi perché fino a quando uno non accetta il processo di guidatore potrebbe essere qui potrebbe essere multiplo poi dipende un po' come si modella uno può modellare questo dal punto di vista del viaggio quindi il ciclo di vista del viaggio da quando nasce e quando viene concluso o dal punto di vista del guidatore e del passeggero con i due processi che raccoltano l'esperienza da un punto di vista o dall'altro sono due modi molto diversi di descrivere la stessa cosa dipende da quello che troviamo più naturale e anche poi il diagramma di casi d'uso sono casi d'uso che hanno questi due attori forti guidatore e passeggero alcuni trigger ad esempio il fatto che il guidatore riceve la segnalazione del tipo accetti o no questo è un caso d'uso triggerato al sistema quindi mentre il modello concettuale è relativamente semplice il modello di processo con i due casi d'uso invece sono un pochino più articolati per questo c'è altro questo esercizio da portare avanti in questa parte ci regaliamo ci regaliamo ci regaliamo bisauto no sono solo tre minuti grazie a tutti grazie a tutti